Siamo dinanzi al Misticoni Belisario a Pescara, a liceo occupato già da diversi giorni, siamo con due studentesse. Quali i motivi di questa occupazione? Allora, i motivi sono tanti. Quello in particolare su cui si è basata questa occupazione è il bisogno di una terza sede, perché questa struttura sta accogliendo diversi indirizzi, i quali non abbiamo l'opportunità di tenerli tutti all'interno di questa struttura. Abbiamo il liceo artistico, per cui è stata fondata negli anni 60, il coreutico e il musicale. Il coreutico ha soltanto una stanza dove può provare, tra l'altro col parquet storto, e invece di diritto ha bisogno di minimo tre aule di danza. Il musicale ha bisogno di aule insonorizzate, che questa struttura, le mure, non la possono sorreggere. L'artistico non ha materiale, tantissimi ragazzi si stanno ammalando per polvere e muffa all'interno delle mura. I motivi sono veramente tantissimi, il sovraffollamento, aule distrutte, porte che cadono, mancanza di materiale, mancanza di fondi. È un discorso molto generale e onestamente se lo andiamo ad approfondire riempirei tutta la mattinata. Ci sono problemi? Sì. Avete trovato la solidarietà del corpo docente? Sì, diciamo che abbiamo cercato anche di strutturare l'occupazione in modo pacifico, prima di tutto, coinvolgendo anche professori per attività, lezioni alternative. Certo, non tutti i professori erano d'accordo con noi per fare l'occupazione, alcuni professori preferivano altri modi, però ci è sembrato un'opportunità dato che tutte le scuole si sono mosse a livello locale, quindi Pescara ma anche a livello nazionale, per occuparsi anche di problemi nazionali, quindi la buona scuola di Renzi. Abbiamo sfruttato l'occupazione per discutere anche di questo, perché ci sembra opportuno e giusto. Continuerete fino a quando? Continueremo fino a quando non avremo almeno dei risultati, ma che siano su carta, quindi non solo parole, 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 perché ci vengono fatte promesse da cinque anni e i fatti però sono questi, noi siamo ancora qui ammassati ed è insostenibile questa situazione.